E' con noi Linda Filippetti del gruppo La Scuola di Danza alla Trottola di Modena. Che esperienza è stata qui a Todi a questa esibizione? E' stata una bellissima esperienza e cerchiamo di farne il più possibile in modo comunque da stemperare la tensione volta per volta perché fa tutto curriculum quindi sicuramente il viaggio ne valsa anche la pena perché venendo da Modena... Avete avuto un premio finale di prestigio, io vi guardavo, forse voi pensavate che non foste premiati in alcun modo? Ma sì, alla fine non ce l'aspettiamo mai, nel senso l'umiltà penso sia importante, quindi non è che diamo per scontato nulla, noi ci alleniamo e va come va, poi è chiaro che erano tanti stili diversi, tanti tipi di danze, di balli diversi quindi non potevamo aspettarci nulla, i giudici valutano in base ai loro criteri, quindi non ce lo potevamo aspettare. Cosa ti aspetti da questa attività nella danza? Ma io mi aspetto di mantenere questo gruppo perché comunque se funzioniamo è perché ci siamo tutte e perché lavoriamo bene insieme, perché tutte puntiamo verso lo stesso obiettivo perché altrimenti non avrebbe senso e niente, di divertirci ancora così e di avere tante soddisfazioni come stiamo avendo in questo periodo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!